Nel momento delle ferite avete dato un esempio di coraggio a tutta l'umanità. Abbiate ora il coraggio di crescere i vostri figli in quella dignità, in quella fortezza, in quello spirito di speranza che avete avuto in quel momento. Papa Francesco è arrivato a Mirandola, cittadina nella Basso Modenese, colpita duramente dal terremoto del 2012, nel pomeriggio della sua visita nella diocesi di Carpi e dopo un primo abbraccio con gli oltre 4.000 cittadini raccolti nella piazza del Duomo, ha voluto entrare nel tempio ancora inagibile, in attesa del restauro. Accompagnato dal parroco, dal sindaco e dal vescovo di Carpi, ha guardato le volte sfondate e le navate tenute insieme dalle impalcature ed ha lasciato sull'altare un mazzo di fiori in memoria delle vittime del terremoto. Uscito di nuovo nella piazza, il pontefice ha ascoltato il vescovo Cavina annunciare che finalmente entro l'estate, a cinque anni dal sisma, inizieranno i lavori per restituire alla città di Pico, filosofo del primo rinascimento famoso per la sua memoria, il suo Duomo. Quindi ha manifestato la sua vicinanza ai parenti delle 28 vittime, alcuni presenti all'incontro, come nel giugno del 2012 aveva fatto Benedetto XVI, ricordando le ferite alle case, alle attività produttive, alle chiese e ai monumenti, ma soprattutto le ferite interiori, di chi ha perso i propri cari. Ed ha ricordato la grande testimonianza di dignità e di intraprendenza dimostrata dagli emiliani in quei giorni drammatici, affrontati con spirito evangelico, accettando negli eventi dolorosi la misteriosa presenza di un padre che è sempre amorevole anche nelle prove più dure. Le ferite sono state guarite, ha proseguito a braccio Papa Francesco, ma rimarranno per tutta la vita le cicatrici. E guardando queste cicatrici voi abbiate il coraggio di crescere e di far crescere i vostri figli con la stessa dignità che avete avuto in quei giorni. Ed ha lodato il molto che è stato fatto nell'opera della ricostruzione, chiedendo però un deciso impegno per recuperare anche i centri storici, luoghi della memoria storica e spazi indispensabili della vita sociale. Prima di lasciare la piazza, il Papa ha salutato i parenti delle vittime presenti e molti dei fedeli stretti lungo le transenne. Quindi è raggiunto la chiesa di San Giacomo Roncole, anch'essa inagibile e ha posto una corona di fiori ai piedi del monumento che ricorda le vittime del terremoto, prima di salire sull'elicottero e fare il ritorno in Vaticano.